Sarà il Foro Buario di Lucca ad ospitare il progetto dal titolo La Street Art, colore alla città, voluto dal Comune e che darà la possibilità a 15 giovani di partecipare ad un corso di laboratori avanzati di graffiti, rivolto ai giovani lucchesi per la realizzazione finale di un murales sulle pareti del Foro Buario. Il Comune sta riqualificando il Foro Buario, il luogo per eccellenza delle politiche giovanili della città. Ci sarà un corso di street art, 15 giovani lucchesi potranno imparare l'arte dei graffiti e dei murales e concluderanno questo percorso affrescando il Foro Buario con i loro colori. Quindi il protagonismo giovanile è fondamentale per riqualificare il Foro Buario. Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 23 anni che vogliono approfondire la loro familiarità con quest'arte. Le richieste dovranno pervenire a onda espressiva chiocciolagmail.com entro il 16 ottobre e sarà proprio l'associazione omonima a seguire il progetto all'interno del Foro Buario, luogo che si conferma uno dei punti di aggregazione giovanili più importanti. Pensiamo che sia un punto di riferimento per i giovani lucchesi, perché comunque è uno spazio dove si possono svolgere varie attività, che comunque è già molto utilizzato dalle associazioni, non solo per i concerti, per le manifestazioni che ci sono state chiaramente quando non c'era il Covid nel fine settimana, ma anche per tante associazioni che lo utilizzano durante la settimana.